Ed ora allestiamo questa cucina per rendere la calda e accogliente secondo il target di riferimento a cui ci stiamo rivolgendo. La cucina viene sempre inquadrata con una familiarità di prospettive per cui è quando io apro la porta di casa e vedo quello che mi succede, quello che è casa mia dopo l'ingresso e dopo l'apertura di questa porta. Questo a mio modo di vedere ha aggiunto un bellissimo grado di vero, quel po' di errore, quel po' di forzatura, la costruzione nell'utilizzare l'ottica non sempre per forza corretta per il soggetto ma tutto in funzione di un realismo forzatamente costruito. Abbiamo lavorato molto sul collegamento tra delle generazioni di consumatori che quindi vanno dai millennial fino ai nuovi maturi, cioè ai neomaturi, quindi per dare delle risposte adeguate. Un set creato da uno staff che lavora, che si crea apposta per questa situazione e che poi si scioglie e ci auguriamo si rincontrerà per altre edizioni, per altre produzioni dell'azienda. Grazie. 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 Grazie.